10 anni di oncologia in Valle Seriana sono coincisi con cambiamenti importanti nella cura del cancro in un lasso di tempo così breve la ricerca scientifica e clinica che ci ha accompagnati e benefici che ne sono scatturiti hanno cambiato significativamente il modo di approcciare il malato oncologico il lavoro di equip con le varie figure professionali rappresenta tuttavia ancora oggi uno strumento indispensabile per l'approccio al malato con le sue fragilità e esigenze come sottolineato da giuseppe nastasi primario dell'unità oncologica dell'ospedale pesenti fenaroli di alzano lombardo nel corso del convegno tenutosi nella mattinata di venerdì 3 dicembre la struttura oncologica nel 2001 contava un reparto oncologico in alzano lombardo con annesso un day hospital successivamente è stato annesso l'ospedale di cruzone con un ambulatorio oncologico l'ospedale di tre score balneario con un ambulatorio oncologico nel tempo sono stati trasformati in day hospital oncologiche entrambi quindi oggi a distanza di dieci anni diciamo che la struttura oncologica costa di un reparto di 12 posti letto e di tre grossi day hospital che vanno diciamo a capillarizzare l'oncologia per quanto riguarda la val seriana bassa la val seriana alta la val di scalve e tutta la val cavallina la personalizzazione della terapia la ricerca di fattori predittivi e la risposta farmacologica hanno permesso di offrire pazienti terapie mirate e sempre più efficaci la nostra oncologia è cresciuta sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo si è aperta molto al territorio il territorio naturalmente automaticamente ha risposto in modo egregio territorio bergamasco un territorio che non è avaro soprattutto per quanto riguarda l'aspetto del volontariato i passi sono veramente passi importanti passi solidi direi grazie veramente di cuore avanti così perché naturalmente oggi inizia il primo giorno del prossimo decennio